Reliquia Reliquia è una nuova azienda svizzera presso il centro crematorio locarnese di Locarno dove c'è il nostro showroom per il pubblico e tutta la gamma completa dei nostri prodotti. È stata fondata nel 2015 e produce un prodotto innovativo che è stato definito l'anello del ricordo. Una serie di gioielli, di anelli e di pendenti che possono contenere pochi grammi di ceneri del defunto o una piccola ciocca di capelli. Sono dei prodotti completamente nuovi, una gamma completa di gioielli sviluppati con l'aiuto di orafi italiani però prodotti completamente con design italiano e qualità svizzera. Abbiamo iniziato la produzione nel 2015 e abbiamo presentato ufficialmente tutta la gamma di prodotti alla Fiera Internazionale Funeraire di Parigi nel novembre del 2015 e in questi giorni stiamo presentando il prodotto per l'Italia presso la Fiera Tanexpo di Bologna. Il nostro cliente non è la famiglia del defunto ma è tipicamente l'impresa funebre perché noi abbiamo sviluppato una gamma di prodotti che chiamiamo kit tecnici o corredi per poter mettere in grado l'impresa funebre di proporre i nostri gioielli alle loro famiglie, ai loro clienti. Tutte le imprese funebri possono associarsi come distributori di Reliquia, possono trovare tutti i dati di loro interesse sul nostro sito internet che è www.reliquia.ch oppure interpellarci direttamente chiamando i nostri numeri telefonici che trovano sul sito. Abbiamo realizzato per le imprese che decidono di diventare i nostri partner e distributori una serie di quattro corredi diversamente composti che contengono urne ceneri, cofanetti portagioie e copie in argento dei nostri gioielli e che permettono alle imprese di mostrare direttamente ai loro clienti la qualità delle nostre realizzazioni. Questo è il nostro corredo basic per le imprese che comprende un urna ceneri, laccata nera oppure di colore bianco un cofanetto portagioie, sempre nero oppure bianco una copia in argento dorato di uno dei nostri gioielli, l'anello del ricordo e tutta una serie di brochure, materiale illustrativo, buste preaffrancate e preimpostate e fialette per la spedizione direttamente a noi da parte delle imprese dei materiali che ci permettono di realizzare l'anello del ricordo. Forniremo all'impresa anche una vetrofania per poter esporla sulla propria vetrina in modo da identificarsi immediatamente come nostro partner e distributore e inoltre per contratto autorizzeremo l'impresa, nostro partner e distributore a utilizzare i nostri marchi e le nostre immagini dei prodotti per la propria pubblicità aziendale. Il corredo classic a integrazione del corredo basic ha tutta una dotazione doppia rispetto ai materiali che noi forniamo all'impresa e quindi ci saranno due urne ceneri laccate, due cofanetti, due copie dell'anello in argento placato oro comunque c'è sempre il kit tecnico e quindi l'anelliera per le misure e ci sarà anche il doppio del materiale illustrativo necessario per le imprese per mostrare la realizzazione del prodotto anello del ricordo per i propri clienti. Veniamo ora alla linea luxury della nostra proposta per le imprese. Il nostro corredo luxury prevede oltre a tutto quello che abbiamo detto per i corredi precedenti quindi una doppia serie di urne, una doppia serie di cofanetti, un doppio modello dell'anello in argento placato oro, prevede anche la console espositiva per creare un corner di classe all'interno dell'impresa funebre. L'ultimo corredo, il più completo, il più elegante realizzato per le imprese per dare la possibilità all'impresa di distinguersi rispetto alla concorrenza e per poter dare un'immagine coordinata migliore ai propri clienti è il nostro kit o il nostro corredo Excellence dedicato alle imprese. Oltre a prevedere tutti i prodotti che erano compresi nei corredi precedenti, prevede delle urne ceneri particolari della nostra serie B-Spoke, i cofanetti della serie B-Spoke e anche due coppie degli anelli della nostra serie B-Spoke che sono quelli realizzati nei materiali particolari, ovvero carbonio, titanio o altre leghe sempre preziose. E per concludere, il nostro prodotto, la nostra vetrina espositiva, dedicata espressamente ai titolari di case funerarie o di forni crematori, che permetterà con l'esposizione della nostra vetrina dedicata, contenente una gamma completa di prodotti, di far apprezzare ai clienti dell'impresa direttamente la classe e l'eleganza del nostro prodotto, l'anello del ricordo. Invitiamo tutte le imprese funebri italiane che hanno apprezzato il nostro prodotto presso la fiera Tanexpo e vogliono proporlo ai loro clienti come servizio innovativo e finale dopo il servizio funebre a contattarci sul nostro sito internet www.reliquia.ch dove troveranno tutte le informazioni necessarie per la loro attività e i numeri telefonici per un contatto diretto.